Giatti! Giatti! Andiamo nel report, a ma partiamo perché se non toghi cominciano a ritorno. Vai Marzzi, va! Sì, ne ha! Sì, ne ha! Sì, ne ha! Sì, ne ha! Ehi, 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 ehi. Ehi, 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 e E' un'ottoria che è qua, e' un'ottoria che è qua. E' un'ottoria che è qua, e' un'ottoria che è qua. E' un'ottoria che è qua. Come un peccamore, si fa su un soldato, si fa una vera via. E voto per tutti i uomini, una volta che mi ha sentito nel ribasso, non la coppa è visto a guarda, non la città, non la città. Si, la guarda, si, la pressione, si, la pressione, si, la passione, si, la passione, si, la guarda, si, la passione, si, la passione, si, la patchone, si, la passione, si, la passione, Yeah! Non la coppa è stata la patata, Yeah! Sì, sì, sì. Sì, sì, sì.